Ci ritroviamo insieme pronti a dare il via alla girandola dei nostri collegamenti per parlare di tante belle storie che in tempo reale stanno arricchendo le giornate di questo maggio 2024. Prima però ad arricchire la nostra mattinata ai vostri scatti, quello che vediamo è la Cattedrale di Sant'Andrea Apostolo ad Amalfi. Ringrazio la famiglia Abagnara proprio di Amalfi che ci invia questo scatto davvero molto molto bello. Poi una rosa fatta a mano sul legno, non leggiamo il nome di chi ce l'ha inviata ma siamo grati anche per questo scatto. Non dimenticate di scrivere il vostro nome così come ha fatto Francesca, una nostra cara telespettatrice tarantina che vive a Parma da 14 anni. La foto non dovrebbe essere questa, dovrebbe essere quella di su un prato con degli alberi. La recuperiamo subito, eccola qua, grazie alla regia e grazie anche a Francesca che ci ha inviato questo scatto. Evidentemente sull'invito che facevamo affacciatevi a finestre e balconi fateci vedere cosa vedete. Beh a te non ti va di certo male perché hai Francesca questo sguardo su questo bellissimo verde che ti riempie gli occhi e i polmoni con un bel respiro stamattina. Un altro bel respiro ci arriva attraverso lo scatto che ci giunge da Mariangela e Giovannina da Avigliano sul loro panorama sempre mozzafiato. E poi uno scatto floreale per la bella e cara Madonnina che c'è a San Giovanni Rotondo. Ce la dedica Pinuccia di Cuneo inviandoci cordiali saluti a tutti. Grazie Pinuccia, ci accogliamo veramente con gioia questo tuo pensiero. E chiudiamo quest'altra girandola di foto con il buongiorno che ci invia Simona di Alanno in provincia di Pescara. Questo è l'oratorio della Madonna delle Grazie in una delle contrade di Alanno. Molto bella anche questa foto. Grazie di cuore a Simona di Alanno. Intanto siamo già in collegamento con il nostro primo ospite di oggi. Che saluto e che ringrazio per essere con noi direttamente da Cefalù dove si sta svolgendo il meeting Francescano del Mediterraneo. Buongiorno e bentrovato. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Come state? Tutto bene? Stiamo benissimo. Stiamo vivendo questi tre giorni all'insegna della fraternità. Ecco, ci ritroviamo qui a Cefalù per godere della bellezza della fraternità, per trovarci insieme, per confrontarci, per dialogare in un clima di festa. Ci bacia il bel sole. Ecco, in questo momento qualche nuvoletta, ma presto arriva il sole. Ieri è una giornata che ci ha visto ben abbronzati. E quindi sono tre giorni veramente ricchi di incontri, di dibattiti. E grazie a voi per l'attenzione che date a questo nostro momento. Siamo veramente felici, Carmelo, di questo collegamento. Abbiamo anche un contributo video che dura solo un minuto. Il tempo di entrare ulteriormente nel clima del meeting Francescano del Mediterraneo lo vediamo insieme e poi lo commentiamo. Grazie a tutti. Ecco, Carmelo, adesso mi hai fatto un minuto. Mi hai fatto venire una voglia di venire a Cefalù, che se avessi una macchina del tempo, sai, quelle porte spazio-tempo che mi consentissero di fare un salto. Sarebbe una grande gioia. Ci aspettiamo per il prossimo anno, ecco, già questo lo possiamo dire. Dai, grazie, grazie per l'invito. Se ci fossero queste porte spazio-tempo farei un salto da San Giovanni Notondo a Cefalù in questo istante stesso, perché dalle immagini che abbiamo visto c'è veramente un gran bel clima a Cefalù, intorno al meeting Francescano del Mediterraneo. Ci sono tanti gli appuntamenti per vivere a pieno questo momento, per cui ti invito a farci una panoramica di quello che è successo e di quello che succederà, concentrandoti sugli aspetti che ritieni più importanti. Grazie, sì, abbiamo iniziato ieri, accolti dal Vescovo Marciante, che ci ha introdotti nel tema di questo meeting. Il tema scelto, alla luce del Magistero di Papa Francesco, è connessi. Non esistono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. Ecco, alla luce di questa parola offerta da Papa Francesco al mondo, abbiamo pensato a questi giorni, a questi giorni che ci ritrovano nella piazza per riflettere, per dibattere insieme. Il meeting è un luogo aperto, aperto pensato dai Francescani, dai Francescani secolari, insieme alla famiglia francescana, ma aperto a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che vogliono contribuire ad offrire un pensiero per una società più giusta, più solidale e più equa. Sono tre giorni, appunto, come dicevi tu, intensi di dibattiti aperti al mondo culturale, al mondo istituzionale, al mondo accademico. Ci ritroveremo oggi, sarà una carrellata grandissima. Ieri il Vescovo Marciante ci ha introdotti, il Vescovo della diocese di Cefalu, che ringraziamo. Oggi inizieremo con diversi dibattiti, parleremo di economia, di nuovi stili di vita, ci sarà con noi Adriano Sella, Andrea Piccaluga, degli imprenditori nobili nel campo dell'economia. Parleremo di intelligenza artificiale, con ricercatori, con il professore Savagnone, con i suoi aspetti positivi, ma anche con la sua etica nel vivere questa esperienza. Parleremo di Europa, alla luce delle elezioni imminenti, parleremo della visione dell'Europa che vogliamo, un'Europa più fraterna, più giusta, nell'idea dei padri fondatori, del nostro Schumann, Francescano secolare. Parleremo di comunicazioni, parleremo di social, parleremo del desiderio di un Mediterraneo di pace. Ecco, in questo meeting ha un ruolo centrale, fondamentale. In un tempo particolare, dove il mondo è diviso tra guerra, odio e violenza, vogliamo che da Cefalu parti un grande grido per la pace. Sarà con noi presente Fra Francesco Patton, il custode di Terra Santa, che da Gerusalemme viene a Cefalu per parlarci di quanto succede oggi in Medio Oriente. E con lui, appunto, in questa panoramica in cui il mondo è diviso da odio e violenza, vogliamo rilanciare questo grido per la pace, che sarà appunto in un aspetto di confronto, di dibattito. E poi domani, in un segno visivo all'esterno, insieme ai sindaci, alle istituzioni siciliane, agli uomini e alle donne di buona volontà, ci muoveremo in corteo per le vie di Cefalu, per arrivare fino ad arrivare al lungomare, dove una grande tela di 10 metri, a cui lavoreranno a più mani i partecipanti del meeting, ma anche i tanti turisti che si trovano qui a Cefalu, vogliamo lanciare questo segno, questo grido. Ecco, i francescani, il mondo, gli uomini e le donne di buona volontà chiedono pace, chiedono pace per questo mondo. Ci uniamo a Papa Francesco nel clima di preghiera, ma anche nell'impegno, perché Papa Francesco consegna una parola ai francescani, ai cristiani, ma a tutti gli uomini e alle donne di buona volontà. La pace si costruisce come piccoli artigiani nei nostri gesti quotidiani. E l'altro segno che ci consegna è che dobbiamo essere costruttori di speranza e di futuro, ma questa speranza e questo futuro vanno organizzati con il nostro impegno. E questo è il senso del meeting. Grazie Carmelo, sei stato davvero preciso, puntuale e ci hai fatto entrare, oltre che con le immagini, appunto con le tue riflessioni in quello che davvero si presenta come un momento cruciale per interpretare al meglio questi tempi e che sottolinea anche l'importanza di quella chiesa in uscita che desidera appunto il nostro amato Papa Francesco. Credo che da quello che ci hai raccontato, da quello che abbiamo visto, ci state riuscendo a pieno, per cui i nostri più sinceri complimenti. Grazie, vi ringrazio e ringrazio lei, la direzione e appunto tutti gli amici di Telepadre Pio per il prezioso servizio che svolgete appunto per la chiesa e per la società. Quindi in unione, appunto in un cammino comune, ecco vi ringraziamo e speriamo di continuare a camminare insieme. Grazie a voi Carmelo, abbiamo anche visto che ci sono i canali ufficiali dell'evento che possiamo seguire per essere ulteriormente più vicini a questo grande momento di riflessione che appunto rappresenta il meeting francescano del Mediterraneo, c'è la pagina Instagram, la pagina Facebook ma anche il sito internet, vero Carmelo? Sì, potete seguirci sulla pagina social, meeting francescano del Mediterraneo, anche sul sito, avremo quasi tutti i momenti principali in diretta, ecco, quindi la possibilità di conoscere meglio il nostro programma, di poterci seguire. Quindi saremo insieme a partecipare in modo diverso a questa grande esperienza. Quindi questa porta spazio-tempo c'è, esiste, è il prezioso strumento di internet attraverso il quale appunto siamo anche collegati in questo momento e potremmo seguire in diretta alcuni dei momenti salienti del meeting. Carmelo, io ti ringrazio ancora per la tua disponibilità, vi auguro buon proseguimento dei lavori e buona giornata. Grazie, un saluto da Cefalu. A presto, a presto, felicissimi di aver realizzato questo ponte ideale tra San Giovanni Rotondo e Cefalu dove c'è questo bellissimo meeting in atto, quello del meeting francescano del Mediterraneo che appunto si concluderà domani. Molto bene, noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi ritorniamo insieme e da Cefalu andiamo a fare un salto al Salone del Libro di Torino.